Allora, questa non è proprio una video lezione, ma in realtà è soltanto un piccolo video di annuncio. Annuncio per vari scopi. Uno perché voglio provare, mi hanno regalato una telecamerina HD. Ho scoperto subito che ci sono dei problemi di tempi di post elaborazione, ci si mette molto più tempo a produrre i video e probabilmente anche a fare l'upload. E poi un'altra cosa di cui voglio assicurarmi è che poi l'utenza, quando vede questi video, non abbia problemi di buffering, che ogni tanto si ferma, viene fuori il circolino che gira e si aspetta a caricare le immagini. Quindi mi serve proprio di collaudo. Poi ho messo la cravattina delle grandi occasioni perché più o meno, perché non ci sono i numeri certi nei contatori di YouTube, c'è sempre un po' di discrepanza secondo se guarda i dati da una parte piuttosto che da un'altra, ma più o meno dovrebbe essere il cinquecentesimo upload su YouTube che faccio, la cinquecentesima video lezione inca, che poi non è una video lezione inca ma è appunto un annuncio. Un annuncio che serve anche per chi in giro per l'Italia mi sta seguendo come iscritto al canale e che sta quindi vedendo le video lezioni man mano come sono prodotte che devo saltare per problemi di tempistica e coi programmi nella mia quarta, devo saltare le prime due tematiche dell'elettromagnetismo, cioè la carica elettrica, l'elettrostatica e il potenziale elettrico per i quali mi avvarrò di alcuni appunti a vignette che sono su Facebook e che le mie classi si potranno trovare, a parte che gli darò una coppa di cartacea comunque. E passo di colpo, di botto alle correnti elettriche, quindi alla terza tematica dell'elettromagnetismo. L'estate prossima con calma tapperò questi buchi clamorosi di elettrostatica. Bon, questo è quanto, quindi attendo numerosi i feedback da parte vostra sulla fruizione di questa video lezione in HD. Vedete come è nitida la lavagna spaventosa, adesso si vedono anche gli esponenti, una cosa pazzesca. Vabbò, e con questo...